Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete è uno 0-100 un po' particolare. Sono a casa, non sono negli studi, ma continuerò a farvi vedere i pro e contro dei modelli in uscita sul mercato. Chiaramente in questo caso mi riferisco, come avete visto dal titolo, alla Ford Puma. Prima di cominciare vi ricordo che cliccando qua su in alto a destra troverete tutte le informazioni su questo modello. Potete scoprire i prezzi, le dotazioni, potete anche confrontare magari gli allestimenti e capire qual è il migliore per voi. E vi ricordo anche che uscirà la recensione completa molto presto, quindi mi raccomando iscrivetevi e cliccate sulla campanella così vi arriva subito la notifica. Uno dei punti forti della Puma è sicuramente lo stile. Hanno ripreso un po' il concetto di coupé sportiva piccola che c'era alla fine degli anni 90 con la prima Ford Puma e l'hanno rifatta in salsa crossover, chiaramente, che è anche poi la carrozzire che va di moda adesso. Questo significa avere uno stile molto marcato, ma soprattutto estremamente riconoscibile e non avete idea di quante persone per strada si voltino a guardarla. La sportività è un elemento che ha utilizzato Ford per caratterizzare la Puma e in effetti anche guidando la vettura la si sente abbastanza piantata a terra, la tenuta di strada è buona, certo non è una vettura sportiva, ma comunque tra i crossover non è niente male da guidare. Il vero problema secondo me è lo sterzo, che ho sentito un po' troppo vago in certe situazioni, soprattutto su curvoni magari più veloci, in quel caso lo si sente un po' troppo vago, ma soprattutto è una sensazione che potremmo definire come artificiale. Non il massimo se parliamo di sportività. Stile, tecnologie, interni ben fatti e anche una motorizzazione mild hybrid riescono a creare un pacchetto completo molto interessante e se poi guardate sul nostro sito, sempre cliccando questo in alto a destra, scoprirete che la richiesta economica non è neanche poi così elevata, soprattutto paragonandolo alla concorrenza. Quindi da questo punto di vista il prezzo è ok. Nel bagagliaio troviamo una grande novità della gamma Ford, si chiama Megabox, è di fatto un pozzetto che ha tenuta stagna e si può utilizzare magari anche per pulire un'attrezzatura che si è usata per fare sport all'aria aperta. In questo senso ci sarebbe stato bene avere nel divanetto centrale una porzione da poter utilizzare per caricare gli oggetti lunghi, come ad esempio un paio di sci. Per quel che riguarda la tecnologia la Puma è ben riuscita, sia dal punto di vista della multimedialità, quindi il navigatore è ben fatto e veloce, tra l'altro anche la connettività integrata, a cui si possono connettere tutti i passeggeri tramite uno spot wifi interno, e poi tra l'altro anche per quel che riguarda la tecnologia c'è davvero di tutto. Vi dico soltanto che la vettura è in grado di conoscere in anticipo i pericoli che ci sono sulla vostra strada, ma di questo ne parliamo più nello specifico nella recensione. La Puma si può utilizzare anche per i viaggi medio-lunghi, l'assetto non è troppo rigido e soprattutto l'abitacolo è ben insonorizzato. Il problema semmai sono i sedili, che sono un po' troppo rigidi. Come sempre vi ricordo che cliccando qua su in alto a destra potete scoprire tutte le offerte sul nostro sito, vedere quanto potete risparmiare tramite le offerte ufficiali delle case. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Daryl Key. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per ricevere la notifica. Ciao a tutti, alla prossima!